Una volta il maestro a scuola ci disse ragazzi iscrivete una lettera a una G, salzò a un quattro fino a schi insegniamo, andiamo! Buon ragazzi! Buonasera! Allora, dove puoi stai? E' una porta di barattolo un po' di fiolo, va a un barattolo se poi l'ho fatto io sono freschissimi Che fa? Marco? Fai il violacolo che non stai? Se qualcuno già ha visto la barberini della sua ragazza, andiamole a vedere C'è le basse! C'è lo stesso! Oh oh! Ossè! Baga qui! Autentica a Svizzerina alla Guarrafina Un troia Un troia metta un troia Un cagliari C'è! Maldè Un troia Un troia Grazie.